Ciao a tutti ragazzi, oggi qua siamo su Fortnite, su Clash Royale, e qua da Nomadik, vabbè, comunque io non ci gioco, non è che ci gioco tanto a Clash Royale, da mo' che non ci gioco, vediamo come si gioca. Sto Goblin, no no no, perché? Perché mi fa fa qua? Io già ci avevo un Arena 3, ah forse perché l'ho tolto, dai leva sto coso, ti veri ecco. E va tu, avanti, che devo mettere qua? Che ne so, credo? Consenti, ma che vuoi? No, non mi dico che ho ricominciato da capo? Ma non è, ho ricominciato da capo, vabbè, troppo facile, lo metto qua, questo lo metto qui, ecco questo con le frecce, il cavagliello lo rimetto dietro. Vabbè, almeno ci abbiamo, vabbè, con questi possono bastare pure, dai, toh. Vabbè, io non mi attacco più tanto. Vabbè, io non mi attacco più tanto. Vabbè, io non l'amico. Vabbè, io non l'amico. No, mannaggio, perché mi fa mettere qua? Oddio... no ti faccio così era più semplice no e lo sapevo io gigante è fatto giusto metto qui tanto ormai è fatta metto qua oh no che cos'è leva eh no se ho buttato la bella di fuoco non perché basta un po' a presto bene va bene va bene va bene va bene va bene va bene io riscova si lo sobrairei sopra be sopra be sopra ok basta ya no non ho aperto il baule mannaggia si 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 sito sito ma perché ti devo seguire ecco il mezzo il bambolo lo metto di qua il gigante lo rimetto qua casomai gli aceri no qua le cose le metto qua palla di fuoco qua metto se si metto tutti e due ok ok vai buona fortuna a me guarda qua come ti combino come se le posso fare così mentre il cavaliere è qua e il bambolo qua dietro i bracci di acqua morite quindi posso tirare la palla da fuoco qua in mezzo perché va ti riscarico fine muori maestro claus ma che maestro sei ma si ma si allenatore royal mannaggia inserì il mio nickname ma dai è facile si va bene va bene va bene va bene se no ok qua ancora non si scioppa ma ce l'ho internet ah 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 qua ce l'ho intratto ma cavaliere strega e questo e sto a posto l'ultima battaglia e faccio altre due battaglie ogni volta facciamo sette battaglie a ogni video e ora la sfida vai attacco aereo va bene vai attacco aereo oh volevi e volevi e no e no e no questo non si può fare e volevi ma guarda qua che dropper vai lo mettiamo pure in mezzo e muori no ho fatto una grande cavolata e no no ho fatto una grande cavolata mettiamo il bombarolo qui si attacca là no si attacca là due cosciole di drago se muori non lo metto se muori non lo metto eeeh fai schifo sette minuti di un gara ci vuole ok zitto zitto apri 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 ok grazie grazie baule del re baule epico baule fortunato baule del re baule gigante missioni ok proviamo a mandare i bomber proviamo unisciti tre online facciamo una non ho niente amichevole noi iniziamo a fare si si va bene livello 2 zitto zitto cento gemme negozi potrei pure devo arrivare a 250 o 2 milioni vediamo qua va bene va bene ecco quante c'ho tre gemme ebbè battaglia vai prima battaglia levati io levo la strega e metto questo metto pure il bombarolo che lo metto qua vicino ma volevi ma volevi eh no ma dai non ho nessun danno nessun danno eh no ma sono troppi aspetta aspetta e vai adesso non mi puo più comprendere e metto tre arcieri qua arcieri un arcieri a mezzo mezzo arciero ci sta parla di fuoco per aiutarlo prendi non vorrei usare ma attaccate attaccate eh no ma c'è il mini peca vabbè attacchiamo qua e di qua muori no mi sa che ci perdo una leggenda vai a dormire il tuo vestito ti vuoi cambiare le calze non lo so eh che dici va via no no dai che quello pure vuole cambiare le calze che io non ce la faccio oh 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 eh vabbè dai due giganti questo devi attaccare là perché questo se non c'è la notte devi attaccare là dai si ride dai che andiamo a dormire no 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 mi attacca mi attacca mi attacca no è impossible 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 ma ti aiuto io aspetta io sto aspettando sicile pure dopo tutto a letto mi attacca tu no 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 questo è il bigliettino vedi il lavoro del dottore sconfitta 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 Ciao!